Ciao, lascia che mi presenti. Sono il nuovo eDucato. 100% elettrico, 100% Ducato, 100% Fit4Mission. Ormai ci conosciamo da 40 anni. Mi hai visto riscrivere record e portare innovazioni uniche al servizio del settore dei veicoli commerciali. Sono stato il primo van a introdurre sul mercato un motore a metano, il primo veicolo commerciale diesel con l'iniezione diretta Common Rail e il primo a trazione anteriore a superare la barriera delle 3,5 tonnellate di peso totale a terra e 17 metri cubi di capacità di carico. Attualmente i veicoli commerciali di grandi dimensioni sono spinti da motori a combustione interna. Il 99% dei miei colleghi per strada lavora ancora con motori diesel. Ma insieme ai miei creatori ho scoperto che è arrivato il momento di cambiare. Il 25% del mercato dei veicoli commerciali è già pronto per la transizione verso l'elettrico e dato che io sono il leader europeo nel mio settore sarò io a guidare questo cambiamento. La mia versatilità ti consente di scegliere la versione, la capacità della batteria e la modalità di ricarica giuste per la tua azienda. Sono in grado di fornire 370 km di autonomia massima, il che mi rende la scelta adeguata per molte missioni, in particolare quelle ripetitive e per le quali il costo totale di acquisto e utilizzo è una variabile importante. Ho anche la gamma elettrica più completa sul mercato, composta da furgoni, cabinati e veicoli per il trasporto di persone. Offro oltre 400 diverse combinazioni per adattarmi a tutte le tue necessità. Infine le mie emissioni di CO2 sono pari a zero, per questo sono la scelta migliore per chi guida nelle ZTL o nei centri urbani trafficati e in molti casi puoi anche contare su incentivi fiscali dedicati ai veicoli elettrici. A questo punto starai pensando che sono perfetto per la tua attività, giusto? Sono d'accordo con te. Quando posso iniziare? Sono il nuovo eDucato, la versione a zero emissioni per il tuo lavoro.